Comunicava il fuoco alla carica dell'archibugio. Ho letto che l'acciarino chiamato alla biscaglia, un meccanismo che comunicava il fuoco alla carica dell'archibugio, entrò in uso all'inizio del 1500. Nel 1600 e nel XVIII secolo ebbe grande diffusione in Spagna e nell'Italia meridionale. Fu anche usato dagli arabi, dai turchi, dai persiani e dai russi. Perché un meccanismo che uccide ha avuto tanta diffusione? Commento. Perché ogni scoperta esegue l'evoluzione a cui è giunta l'umanità che l'ha concepita.